Turn down for what? Turn down for what? Che sospetto? Io e la mia fidanzata sono andata da cena furtivamente, vabbè andiamo a trovare il mio amico così raccontiamo tutto Vediamo se lui può risolvere qualcosa con me Ecco la mia storia Chi è questo della notte? Chi è? Ah, ciao Dona! Ah, uè! Ah, che cazzo fai? Vabbè Prego Lascia la porta aperta? Sì, sì Ok Ti devo raccontare un fatto Prego, si è dici Oh, grazie Ok, raccontare un fatto Bene, io ho trovato una fidanzata che si chiama Giovanna Ah, però a me L'ho incontrata ieri Ieri l'ho incontrata Dopo alle sette Ah, quindi dopo cena? Credo di sì dopo cena Ah, perciò ieri sei andata furtivamente Nei che era tua fidanzata Sono la stessa della mia Cosa? Che cazzo? Non ho capito che hai detto Che la tua fidanzata può essere la mia? Dice quello che hai detto No, no Calmati Dice quello che hai detto Ci vediamo Quello che è Ci vediamo Ci vediamo Ci vediamo Grazie a tutti